Non si ferma l'ondata di furti in città. Dopo tre furti notturni in altrettanti abitazioni, una vila devastata nel mirino dei soliti ignoti è finito l'istituto delle figlie della croce in via Madonna dell'asilo. Il raid è stato messo a segno lo scorso weekend. I ladri hanno portato via soldi destinati alle missioni e devastato gli uffici al piano superiore dell'istituto. Il furto è stato fatto approfittando dell'assenza delle suore andate a messa. A loro rientro hanno trovato la sgradita sorpresa. L'ammontare del bottino non è stato quantificato, di sicuro è stato vanificato il sacrificio di tante persone generose e delle stesse religiose.